Anticipazioni Endless Love. Tenetevi forte perché ciò che sta per svelarsi vi lascerà senza parole. Vi invito a non perdere neanche un secondo di questo video carico di rivelazioni sconvolgenti e momenti che vi toccheranno il cuore. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i colpi di scena che arricchiscono ogni puntata di Endless Love. Ma entriamo nel vivo. Nell'episodio odierno di Endless Love assistiamo a una svolta in attesa. Leila, dopo un'intesa segreta con Kemal riguardante la cessione della casa di Leila a Demir, prende il coraggio a due mani e decide di contattare Nyan. Quest'ultima, immersa nel riordinare gli effetti di Denise, risponde distrattamente al telefono. Con parole cariche di mistero, Leila le annuncia che sta per farle visita e che ha delle novità da condividere faccia a faccia. La curiosità brucia forte in Nyan, che tenta in vano di estorcere qualche dettaglio, ma Leila, con un filo di voce tremante, le chiede di attendere il loro incontro. Assu, scossa da un'indignazione che non riesce a contenere, si fa strada verso l'ufficio del fratello. La decisione che le vieta di vedere la loro madre la spinta oltre il limite. Con il passo deciso e la determinazione scolpita sul volto, affronta Emir, l'eterno avversario familiare, noto per la sua arroganza implacabile. Emir, sicuro di sé come sempre, le ribatte con disprezzo che non cambierà idea. Ma Asu non è donna da lasciarsi scoraggiare facilmente, con un gesto teatrale sventola dei documenti che rivaltano il potere all'interno dell'azienda, mettendo Emir con le spalle al muro. Di fronte a quelle prove schiaccianti, Emir è costretto a ingoiare il suo orgoglio e cede, permettendo ad Asu di rivedere la madre. Ma non è tutto. Asu, con lo sguardo fiero e la voce ferma, gli fa un'altra richiesta, una che potrebbe cambiare le sorti della famiglia per sempre. Intanto Zeynep conclude la sua giornata lavorativa nel calore accogliente di un bar. Chiede alla proprietaria come sia andata la giornata e, con un sorriso rassicurante, riceve conferme positive. La soddisfazione illumina il suo viso stanco ma felice. Accettando con entusiasmo l'invito a tornare il giorno seguente, si avvia verso l'uscita, ma proprio allora Hakan fa la sua comparsa. Si siedono insieme, avvolti in una luce soffusa, e mentre Zeynep condivide il suo entusiasmo per il nuovo lavoro, Hakan osserva con un sorriso appena accennato la trasformazione positiva nel suo spirito. La conversazione tra Zeynep e Hakan si fa più intima, mentre il fruscio lieve del locale serale avvolge i due in una bolla di confidenza. Zeynep, con uno sguardo compassionevole, chiede ad Hakan come si senta, notando un'ombra di tristezza nei suoi occhi. Con un sospiro, Hakan si apre, rivelando che il recente addio di suo fratello ha lasciato un vuoto nel suo cuore. Nel tentativo di cambiare argomento, Hakan si rivolge a Zeynep con un tono leggermente più allegro, chiedendole se stia ancora cercando un nuovo nido, una casa tutta sua. Zeynep, con un sorriso triste, annuisce, svelando la sua ricerca ancora infructuosa. Sensibile alla situazione, Hakan le propone una soluzione inaspettata. Trasferirsi nella stanza lasciata vuota da suo fratello. L'offerta, sebbene generosa, suscita in Zeynep un conflitto interiore. Con la voce incerta e gli occhi bassi, rifiuta cortesemente, soppesando le aspettative dei suoi genitori, figure di autorità e tradizione che non guarderebbero con favore a una simile convivenza. Dopo tutto quello che è accaduto, confida Zeynep, l'ultima cosa che desidero è deludere ancora chi mi ha dato tutto. L'atmosfera tra Zeynep e Hakan si carica d'intensità, con un tono grave che fa presagire l'importanza del suo prossimo discorso, pronuncia il nome di Ozan. Zeynep, sentendo quel nome, sente un brivido di apprensione. Hakan la guarda negli occhi, la serietà del momento evidente in ogni suo tratto, e le sussurra di custodire gelosamente quanto sta per rivelarle. Non una parola a Emir, né a chiunque altro, insiste. Guarda bene, Zeynep, vedi qualcosa di insolito qui? chiede con un filo di voce. Zeynep osserva, scrutando ogni angolo dell'immagine, ma nulla le salta all'occhio. È una stanza come tante altre, o così sembra. Senza distogliere lo sguardo dalla sua reazione, Hakan tira fuori dalla tasca un bottone, lucido e solitario. Questo apparteneva a una giacca che indossavi quel giorno? Quel giorno fatidico, inizia, la voce carica di un significato oscuro. Il bottone, un piccolo oggetto trascurabile per chiunque altro, diventa un simbolo carico di non detti, di verità nascoste e forse anche di pericoli che ancora non hanno rivelato tutto il loro potenziale distruttivo. Zeynep, ora profondamente coinvolta in questo enigma, capisce che quello che Hakan le sta affidando è molto più di un semplice bottone. Il peso delle rivelazioni porta Zeynep a un crocevia di emozioni e decisioni. L'ansia la invade quando Hakan le confida che il bottone potrebbe essere un indizio cruciale nella morte di Hozan, un giorno in cui anche lei era presente. Tentando di allontanare i sospetti e la paura che ora la sale, suggerisce con voce incerta che potrebbe appartenere a un medico o a un infermiere, cercando di diluire la tensione. Hakan, forse per rassicurarla, o forse per non spingere troppo sul dolore, accetta la possibilità. Colpita dalla generosità e dalla comprensione di Hakan, e sentendo il bisogno di un rifugio sicuro in questo vortice di eventi, Zeynep cambia idea. Decide di accettare la sua offerta di trasferirsi da lui, ma insiste per mantenere la sua indipendenza finanziaria, offrendosi di pagare un affitto e di partire non appena la situazione lo permetterà. Intanto, un altro scenario si sta svolgendo nella dimora di Emir. Lei la arriva con passo deciso, spinta da un'urgenza che non lascia spazio a cortesie. La domestica l'accoglie con una gentilezza che contrasta con la tensione che Leila porta con sé. Con un tono che non ammette repliche declina ogni offerta e chiede di essere condotta immediatamente da Denise. Poco dopo, il suo incontro con Nian aggiunge un altro strato di segreti all'aria già carica. Con un controllo rapido dell'ambiente, assicurandosi che nessuno possa udire, Leila si avvicina a Nian. La sua voce è un sussurro carico di urgenza. «Che mal ti sta aspettando nel solito luogo? Vuole vederti?» Senza un attimo di esitazione, Nian annuisce, preparandosi mentalmente per quello che sarà sicuramente un incontro che potrebbe cambiare le loro vite. Eda è immersa nella visione di una serie tv, cercando un breve rifugio dalle complicazioni della vita reale. Tuttavia, la pace è di breve durata. Ef Sane, la sua collega, entra nella stanza e l'immagine di Eda così distesa la irrita visibilmente. Con un'espressione accigliata, si ritira in disparte e, con movimenti furtivi, compone il numero di Emir per informarlo dell'arrivo di Leila. Questa notizia getta Emir in uno stato di irritazione crescente. Le pieghe del suo viso si accentuano, mentre la rabbia serpeggia nei suoi pensieri. Nel frattempo, l'incontro segreto tra Nian e Kemal si svolge sotto un cielo carico di presagi. Kemal, con gesti misurati, le porge un nuovo dispositivo di comunicazione, spiegandole con serietà che da quel momento in poi dovranno usare solo quello per parlarsi. «Emir ci sta spiando», rivela con un tono basso quasi un sussurro. Le parole di Kemal risvegliano in Nian un ricordo agghiacciante, quello di una conversazione telefonica in cui aveva suggerito di incontrarsi sulla scogliera. Con il cuore che batte all'impazzata si rende conto che Kemal ha ragione, sono sotto osservazione». Kemal nota il cambio di espressione sul viso di Nian e, con un misto di preoccupazione e determinazione, la incalza a rivelare cosa stia turbando così profondamente il suo spirito. Dopo un momento di esitazione, in cui il conflitto interno la strugge, Nian cede, svelando l'orribile minaccia di Emir. Aveva gettato un passeggino dalla scogliera, un gesto di pura intimidazione destinato a incutere terrore. Kemal, ascoltando, stringe i pugni, la rabbia e la paura per la sicurezza di Nian incendiando ogni suo pensiero. Le parole di Nian scatenano una tempesta di rabbia in Kemal, che, accecato dall'ira, minaccia di spazzare via Emir per proteggere ciò che ama. Tuttavia, la saggezza di Nian lo riconduce alla ragione con un urgente appello alla cautela. «Ucciderlo non risolverebbe nulla», sussurra con voce tremante. «Emir vincerebbe comunque. Tu finiresti in prigione, lontano da me e da Denise. Dobbiamo essere astuti, non impulsivi». Rinfrancato ma ancora sotto pressione, Kemal lascia Nian e si dirige verso il capannone di Ayan. Kemal chiede ad Ayan di ispezionare la sua auto alla ricerca di dispositivi di sorveglianza. Ayan, con la precisione di un esperto, esamina ogni centimetro del veicolo, rassicurando Kemal che l'auto è pulita. Ma la paranoia non concede tregua a Kemal, che insiste affinché Ayan verifichi anche l'auto di Nian, sfruttando la copertura del prossimo incontro aziendale per agire senza destare sospetti. «Domani, mentre Nian sarà al consiglio di amministrazione, avrai l'occasione perfetta per agire senza occhi indiscreti», spiega Kemal, la voce bassa e urgente. Ayan annuisce, comprendendo la gravità della situazione e la necessità di muoversi con discrezione. Mentre Kemal si allontana, i pensieri gli turbinano nella mente. Una rete di pericoli si sta stringendo intorno a loro e ogni mossa deve essere calcolata. Dopo il loro incontro, Nian e Leila condividono un momento di leggerezza scherzosa, cercando di alleggerire il peso delle circostanze che li opprimono. «Sì, cercherò di convincere Emir a lasciarmi vivere qui», assicura Leila con un sorriso stanco. «Per Kemal, sono disposta a fare qualsiasi cosa». Il suo tono si fa poi scherzoso. «Dovrò solo imparare a tollerare Emir in questa casa». Nian risponde con una risata amara, confessando che, se fosse per lei, preferirebbe di gran lunga una situazione diversa. Ma il tono si fa serio quando, proprio mentre Leila sta per lasciare, si ferma un momento, il viso improvvisamente pensieroso. «Hai per caso contattato qualche agenzia per bambini o qualcosa del genere», chiede, ricordandosi di aver visto dei volantini sospetti nelle mani di Emir. Nian scuote la testa, negando, ma l'allarme nelle parole di Leila la spinge a investigare. Rapidamente consulta internet e scopre che l'agenzia menzionata da Leila assiste le famiglie turche nel trasferirsi all'estero. Il sangue di Leila si gela nelle vene mentre i pezzi del puzzle iniziano ad allinearsi in una configurazione sinistra. «Emir sta pianificando di portare via Denise», esclama, la rivelazione accendendo un fuoco di paura nei suoi occhi. Nian, sentendo queste parole, avverte un'ondata di ansia travolgerla. La possibilità che Emir possa allontanare Denise senza il suo consenso trasforma la preoccupazione in terrore. Le due donne si scambiano uno sguardo carico di intesa e preoccupazione, consapevoli che devono agire in fretta per sventare i piani di Emir e proteggere la piccola Denise. Emir manovra le pedine del suo piano con la precisione di un regista che controlla ogni scena del suo dramma. Al telefono con Tufan, la sua voce risuona ferma e autoritaria. «È tutto pronto per la partenza?» chiede, aspettandosi un'efficienza impeccabile. Tufan, dall'altra parte della linea, conferma. «I passaporti sono pronti e li consegnerò personalmente alla compagnia. Emir tuttavia tiene le redini ben strette. Sarò io a decidere quando?» sentenzia, prima di scollegare il telefono. Poi, con un gesto che rivela una malizia calcolatrice, stacca il cavo di ricarica da un innocuo peluche, nascondiglio di una telecamera spia, e lo porta con sé, deciso a catturare ogni frammento di verità che possa sfuggirgli. Nel frattempo, la vita sembra prendere un respiro più leggero per Hakan e Zeynep, che arrivano a casa insieme. Hakan le mostra la stanza che diventerà il suo nuovo rifugio. Zeynep, guardandosi intorno, esprime gratitudine, pensando a come rendere quell'angolo personale e accogliente. In una scena di dolce malinconia, Kemal si ritrova solo, con gli occhi fissi sullo schermo di un video mostra Denise e Nian insieme, giocando felici. Le immagini scaldano il cuore di Kemal, ma con una nota di tristezza. Vorrebbe poter essere sempre con loro, vivere quotidianamente quei momenti di gioia pura. Tuttavia, la realtà gli impone barriere dolorose, e mentre le lacrime gli velano gli occhi, si promette che farà tutto ciò che è in suo potere per proteggere la sua famiglia e riunirsi a loro contro ogni ostacolo. Quando il suono del campanello spezza il silenzio della serata, Kemal si alza, asciugandosi gli occhi per andare ad aprire. Davanti alla porta trova i suoi genitori, Feime e Hussein, che lo accolgono con un misto di preoccupazione e affetto familiare. Il loro incontro inizia con i saluti di rito, ma Kemal percepisce subito qualcosa di insolito nello sguardo di suo padre. Dopo aver confermato che Nian è stata dimessa dall'ospedale, Kemal invita i genitori a rimanere a cena, ma suo padre declina gentilmente, accettando però un tè caldo. Mentre Hussein si allontana per lavarsi le mani, l'aria si carica di tensione nella cucina dove Feime e Kemal rimangono soli. Feime, con una voce che trema leggermente sotto il peso della colpa, si scusa per non aver rivelato tutta la verità a Kemal. «Non avrei dovuto nasconderlo», ammette con difficoltà. Kemal, il cui volto si indurisce all'improvviso, non riesce a nascondere il suo disappunto. «Hai preso il diario dalla mia scrivania, senza permesso», lo accusa, la delusione evidente nella sua voce. Feime si giustifica, spiegando di aver agito così per paura che Emir potesse recare danno a Kemal, sottolineando che non avrebbe mai potuto perdonarsi se fosse successo qualcosa di grave. Le parole di Feime, tuttavia, non riescono a placare il dolore e la frustrazione di Kemal, che si sente tradito proprio nel momento in cui aveva più bisogno di fiducia e trasparenza. «La situazione con mia figlia è già abbastanza complicata», sospira Kemal. Mentre Feime e Kemal discutono nella cucina, i loro toni bassi non riescono a sfuggire alle orecchie di Hussein, che, tornato silenziosamente al piano di sotto, si imbatte in una rivelazione che lo colpisce profondamente. «Hai una figlia?», chiede incredulo a Kemal. L'aria si carica di un nuovo peso, e Kemal si trova costretto a confrontarsi con la sorpresa e l'incredulità del padre, mentre cerca di mantenere la calma sotto lo sguardo scrutatore di Hussein. Parallelamente, Nihan, mentre si dirige verso la sua camera, incrocia Eda, la quale, con un tono discreto e un'aria di segretezza, le consiglia di guardarsi le spalle. «Fai attenzione a quello che dici in casa», sussurra, indicando sottilmente che qualcuno potrebbe riferire ogni sua parola a Emir. Grata per l'avvertimento, Nihan annuisce, comprendendo immediatamente l'importanza di mantenere un basso profilo. Nihan entra nella sua camera e nota il peluche di Denise posizionato in modo insolito sul comodino. Quando chiede a Emir il motivo di quella scelta, lui risponde con un distacco che non riesce a nascondere un velo di indifferenza forzata, dicendo semplicemente che è naturale che il peluche stia lì. Ma Nihan, con gli istinti allarmati, non si lascia placare da quella spiegazione. Appena Emir lascia la stanza, lei si avvicina al peluche con cuore battente e, con mani tremanti, inizia a ispezionarlo, scoprendo, nascosta tra il morbido tessuto, una telecamera spia. Un freddo brivido di realizzazione la percorre. Emir ha piazzato occhi e orecchie ovunque, persino nelle stanze più private. Nihan, con un cuore battente e l'indignazione a fuoco, scende a passo rapido verso l'ufficio di Emir. Senza bussare, apre la porta con forza, affrontandolo direttamente sulle sue azioni inquietanti. «Perché hai messo una telecamera nel peluche di Denise? Per spiarmi mentre dormo?» chiede, la voce vibrante di rabbia. Emir, non perdendo la sua abituale aria di sfacciata sicurezza, tenta di schermarsi con una scusa poco convincente. «Volevo solo assicurarmi che stessi bene». Nihan, tuttavia, non si lascia ingannare né intimidire. Con fermezza lo avverte. «Stammi lontano e non osare più fare qualcosa del genere, o te ne pentirai». Ma Emir, imperterrito, continua a sorridere, godendo del turbamento che riesce a infliggere, alimentando la propria sensazione di controllo e potere. Nel frattempo, in un ambiente molto diverso, Zainab e Akan si siedono a cena in un'atmosfera di tranquilla convivialità. Lei approfitta del momento di calma per ringraziare Akan per il suo sostegno incessante, specialmente dopo la tragica morte di Ozan. «Ci sono novità sull'indagine?» chiede con una voce speranzosa. Akan, con un'espressione seria, ammette di non avere ancora nuove informazioni, ma la sua determinazione non vacilla. «Scoprirò chi è stato», promette solennemente. Zainab, colta da sorpresa dalla fermezza di Akan, tenta di negare l'ipotesi che Ozan è stato ucciso. «Ozan non è stato ucciso, deve essere stato un incidente», insiste, cercando di allontanare l'orribile possibilità. Tuttavia, Akan la corregge con una certezza che la lascia senza parole. «No, Zainab, è stato ucciso. Anche io volevo credere fosse un incidente. Ma ora ne sono certo». Zainab si sente un gelo dentro. La paura si insinua lentamente nelle sue vene, mentre la realtà dell'affermazione di Akan prende forma. Asu e Tariq si confrontano su una scoperta che potrebbe cambiare le sorti del loro complicato gioco di alleanze. Asu, con una calma studiata, fa scivolare verso Tariq un foglio che elenca una serie di pagamenti sospetti effettuati dalla società a Banu. La sua rivelazione fa scattare immediatamente l'ira di Tariq, che, con un gesto impetuoso, strappa il documento, convinto ora più che mai dell'infedeltà della moglie. «Ti ringrazio, Asu, per il tuo aiuto», dice Tariq. La gratitudine mista a una risolutezza amara. Ma Asu, con un tono di voce basso, lo esorta a mantenere la scoperta per sé. «Non dire a Banu che sai», lo avverte, aggiungendo poi una rivelazione ancora più sconcertante. «So che lavori per Emir. Ho sentito quella telefonata compromettente». Tariq si congela. Il silenzio tra loro diventa denso. Asu, osservando la sua reazione, intuisce che dietro la collaborazione di Tariq con Emir C. siano motivi oscuri e dolorosi. «Perché non mi lasci gestire la situazione?», propone Asu, con un tono che cerca di essere rassicurante. «Posso aiutarti a liberarti di Emir una volta per tutte», continua. Tariq, travolto dalle emozioni e dalla pressione, rimane in silenzio, valutando le sue opzioni. Ma quello che Tariq ignora è che Asu è d'accordo con Emir. Ogni sua parola, ogni gesto, fa parte di un intricato piano per ingannarlo. L'obiettivo di Asu non è aiutare Tariq, ma piuttosto usarlo come pedina per colpire Kemal in modo devastante, seguendo gli ordini di Emir per tessere una rete di tradimento che alla fine dovrebbe lasciare Kemal vulnerabile e distrutto. Hussein, profondamente scosso dalla scoperta che Kemal abbia una figlia di cui non ha mai parlato, sembra perso nei suoi pensieri, riflettendo sulla serie di eventi che hanno turbato la tranquillità familiare. «Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo?» chiede con una voce carica di disperazione, rivolgendo lo sguardo al cielo come in cerca di risposte. Si rivolge poi a Feime, cercando conferme. «C'è altro che devo sapere?» Feime, mantenendo un'espressione neutra, scuote la testa, assicurandogli che non ci sono altri segreti. Kemal, da parte sua, rimane determinato nonostante la crescente pressione. «Troverò un modo per portare via Nyan da Emir senza che nessuno si faccia del male», afferma con fermezza, cercando di proiettare una calma che difficilmente sente. La tensione viene interrotta dal suono del telefono di Kemal. Con un'espressione preoccupata, sale in camera per rispondere. «Enihan», la sua voce tremante di paura riempie l'aria. «Kemal, il peluche! Era manomesso!» «Emir ci sta spiando, sono sicura di questo!» Kemal si sforza di mantenere la lucidità necessaria per gestire la situazione. «Ascoltami, Nyan, se Emir non ha ancora agito è perché sta aspettando il momento giusto. Dobbiamo restare calmi e non precipitarci nelle sue trappole», le dice, cercando di infondere sicurezza nelle sue parole. Dopo aver concluso la chiamata, Kemal ritorna al piano di sotto, dove i suoi genitori lo attendono, l'ansia evidente nei loro volti. Con una voce che cerca di trasmettere tranquillità, li rassicura e li prega di mantenere il segreto su tutto, specialmente da Tariq. «Dobbiamo essere prudenti», insiste, sapendo bene che ogni piccola scossa potrebbe innescare conseguenze imprevedibili. Nel salotto l'aria è tesa mentre Emir, Nyan e la madre di Nyan siedono sul divano. Nyan, armata della conoscenza dei piani sinistri di Emir, decide di sfidarlo. Con un tono apparentemente innocente ma carico di intenzioni, suggerisce di contattare un'agenzia per l'assistenza ai bambini. Emir, tuttavia, resta imperturbabile, respingendo la proposta con una scusa veloce. «Non c'è bisogno, Denise è perfettamente assistita dalle domestiche». La sua risposta secca taglia corto ulteriori discussioni, dimostrando la sua intenzione di mantenere il controllo sulla situazione. Poi, con un cambio di tono autoritario, si alza per andare in azienda, ricordando a Nyan di prepararsi rapidamente per amministrazione dove la sua presenza e voto sono essenziali. Contemporaneamente l'atmosfera in azienda è frenetica ma controllata. Kemal e Zair sono immersi nei preparativi, assicurandosi che tutto sia pronto per le operazioni del giorno. Kemal interroga Zair su ciò che lo turba. Dopo un momento di esitazione, Zair rivela di aver ritrovato Zera e che non può sopportare di lasciarla in una situazione precaria. Kemal, capendo immediatamente la gravità della situazione, risponde con una promessa di supporto. «Portala qui! Non preoccuparti di Emir, me ne occuperò io!» Nel salone per la colazione, l'atmosfera è carica di sottili tensioni mentre Tariq fa il suo ingresso. I suoi genitori e Banu sono già seduti e Banu si alza per versargli del tè in un gesto di cortesia. Tuttavia Tariq, con un tono tagliente e scontroso, rifiuta bruscamente l'offerta. Sorpresa dal suo comportamento, Banu lo incalza, chiedendogli il motivo di tale rifiuto. Tariq, cercando di nascondere il suo crescente sospetto e disagio, si scusa dicendo di avere mal di stomaco. Si dirige quindi in cucina per prendere una pillola con Banu che lo segue, chiaramente preoccupata per il suo benessere. Tentando di verificare se abbia la febbre, Banu gli si avvicina per toccargli la fronte. Ma Tariq, ormai irritato e poco incline a ricevere attenzioni, la respinge bruscamente. Banu, offesa e irritata, non riesce a trattenersi e gli rinfaccia il suo continuo sospetto che lei abbia contattato Emir, una questione che a lui sembra non avere importanza, ma Tariq, armato della verità, non è più disposto a tollerare tale comportamento. Contemporaneamente, nell'edificio aziendale di Emir, l'atmosfera è elettrica in vista della riunione del consiglio di amministrazione. Nyan e Galip sono presenti e Galip, cercando di rassicurare Emir, gli conferma che hanno già ottenuto tutti i voti necessari a favore della loro proposta, ad eccezione di quello di Leila. La sua osservazione sembra scivolare su Nyan, che risponde con una calma indifferente, mostrando poco interesse per le dinamiche di potere in gioco. Poi, con un tono neutro, invita Emir a procedere verso la sala riunioni. Nel parcheggio semideserto dell'azienda, Ayan e uno dei suoi uomini operano con discrezione. Dopo aver assicurato che le telecamere di sorveglianza siano disattivate, l'uomo si abbassa vicino all'auto di Nyan e scopre, non senza una certa tensione, un dispositivo GPS nascosto sotto il veicolo. Con un cenno rapido, segnala ad Ayan ha eseguito il compito, e Ayan, soddisfatto, chiama immediatamente Kemal per informarlo della scoperta. Kemal, che in quel momento si trova a incrociare Emir e Nyan nel corridoio dell'azienda, mantiene una calma impeccabile nonostante la chiara provocazione di Emir, che cammina tenendo Nyan per mano in un gesto evidentemente calcolato per irritarlo. Al telefono, Ayan gli conferma che l'auto di Nyan è sotto sorveglianza. «Cosa facciamo?» chiede Ayan attento. Kemal, con una lucidità che sorprende perfino il suo interlocutore, istruisce Ayan di non rimuovere il dispositivo. «Lascia tutto com'è», dice serenamente. «Probabilmente è parte di un piano più grande di Emir». Dopo aver congedato Ayan, Kemal si dirige con passo sicuro verso la sala riunioni. L'atmosfera nella sala del Consiglio è carica di aspettative mentre Asu prende la parola. Anche se non ha diritto di voto, chiede con fermezza di essere tenuta informata su ogni decisione aziendale, sottolineando il suo interesse e il suo impegno nei confronti dell'azienda. Sorprendentemente, gli azionisti accolgono la sua richiesta, concedendole il permesso di partecipare alle discussioni. Quando Kemal entra, l'aria si fa ancora più tesa. Emir lo saluta con un sorriso arrogante, pieno di sicurezza, come se già sapesse di avere la situazione sotto controllo. Tuttavia, sotto quella facciata di sicurezza, si nasconde una vulnerabilità non ancora esposta. Kemal prende la parola con un'autorità che silenzia immediatamente il brusio della sala. «La famiglia di Emir», inizia. «Non ha mai realmente contribuito al successo di questa azienda? Le sue parole sono precise, ogni sillaba carica di significato. Prontamente, evidenzia una contraddizione nei recenti discorsi di Emir, attirando l'attenzione di tutti i presenti, che si spostano inquieti sulle loro sedie, pendendo dalle sue labbra». Senza perdere tempo, Kemal svela il colpo di scena. Emir ha operato in segreto per trasferire il controllo dell'azienda. Emir, colto di sorpresa, si irrigidisce. La sua espressione tradisce un misto di confusione e paura. Ma Kemal, calmo e raccolto, tira fuori i documenti decisivi. Fogli che Emir aveva firmato nei giorni precedenti, ingannato da una manovra astuta orchestrata da Kemal e Zeir. Mentre gli azionisti esaminano le prove, la realtà della trappola si abbatte su Emir come un macigno. Approfittando della situazione di disorientamento generale, Kemal passa all'attacco finale. Chiedo formalmente che Emir non sia rieletto presidente del Consiglio di amministrazione. La richiesta, ferma e inoppugnabile, riecheggia nella sala ormai silenziosa. La votazione è rapida, e sotto lo sguardo incredulo di Emir i consiglieri si esprimono contro di lui, influenzati dalle prove schiaccianti che Kemal ha presentato. Sconfitto e umiliato, Emir cerca appoggio tra i consiglieri che avevano promesso di sostenerlo, ma nessuno osa schierarsi con lui di fronte all'evidenza dei fatti. Con una furia malcelata, abbandona la sala del Consiglio, lasciando dietro di sé un'atmosfera carica di tensione ma anche di un nuovo inizio. Kemal, consapevole della sua vittoria, non perde tempo e annuncia il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione, una persona che aveva accuratamente selezionato e preparato per questo ruolo nei giorni precedenti. Con un sorriso soddisfatto, guarda i suoi colleghi, pronto a guidare l'azienda verso un futuro più stabile e prospero, libero dalle manovre oscure di Emir. Nel suo ufficio, Emir trova rifugio dalla sconfitta pubblica, ma l'atmosfera non è meno tesa. Galip, suo padre, lo attende con un'espressione di grave preoccupazione. Appena Emir entra, Galip esige spiegazioni, ma quello che incontra è solo la furia incontrollata del figlio. «Gliela farò pagare a tutti loro!» urla Emir, la voce vibrante di rabbia e minaccia. «Terrò Nian e Denise vicini a me, a qualsiasi costo!» Con un gesto violento, scaraventa documenti e oggetti a terra, sfogando la sua ira. Poco dopo, Nian entra nell'ufficio. Con una calma provocatoria, quasi beffarda, osserva Emir e lo invita a calmarsi, sottolineando ironicamente il suo fallimento nell'essere rieletto presidente. La reazione di Emir è immediata e esplosiva. Con un urlo di rabbia si scaglia verbalmente contro di lei. «Questa è la mia azienda, tutto qui dentro mi appartiene!» grida, mentre la minaccia di non lasciare che la situazione si risolva pacificamente. «Il mio amore per te non svanirà mai!» le dice con un tono che mescola amore ossessivo e possesso. «Tu mi appartieni!» In quel momento di tensione elevata, Tufan bussa timidamente alla porta, interrompendo la tempesta emotiva. Entrando, mostra a Emir i passaporti preparati, ma la vista di questi documenti fa solo peggiorare le cose. Nian, che ha seguito la scena, ricorda le parole di avvertimento di Leila e sente un rivido di paura. Emir, già a pezzi, reagisce con ulteriore irritazione. «Non è il momento!» sbotta, scacciando Tufan con bruschezza. Poi, mentre Nian esce dall'ufficio, gli lancia un ultimo sguardo. «Calma, Emir, ne parleremo più tardi», dice lasciando Emir solo con la sua rabbia e frustrazione. Nel momento in cui chiude la chiamata con Eda, Nian incontra Leila, che notando il suo turbamento, le chiede cosa stia succedendo. Nian, preoccupata ma determinata, condivide le sue scoperte. «Kemal aveva ragione», inizia, la voce tremante ma chiara, e Emir sta pianificando di fuggire con Denise. Leila, allarmata dalla notizia, ascolta attentamente, pronta a offrire il suo supporto. Nel frattempo, Nian si affretta a incontrare Kemal. Seduti nella sua auto, Nian affronta il sospetto che la tormenta. «Kemal, mi sta spiando?» chiede direttamente. Kemal, con un'espressione seria, conferma le sue preoccupazioni. «Sì, la tua auto è stata sotto sorveglianza. Ora lasceremo la tua auto e useremo la mia», spiega, delineando il piano per evitare ulteriori sorveglianze di Emir. Nian, sollevata ma ancora preoccupata, gli racconta tutto quanto scoperto e confida la sua paura di perdere Denise. Kemal ascolta attentamente e poi la rassicura. «Emir non può portare via Denise senza la firma dell'altro genitore», le dice, cercando di tranquillizzarla. Tuttavia, a quelle parole, Nian si ricorda di un momento critico quando, indebolita dall'operazione in ospedale, Emir aveva approfittato della situazione per farle firmare vari documenti. «Non ero in condizione di leggere ciò che firmavo», ammette, la rivelazione aggiungendo un ulteriore strato di urgenza alla situazione. Conscio dell'importanza di agire velocemente, Kemal stringe il volante con decisione. «Allora dobbiamo agire subito», conclude, il suo tono pieno di risolutezza. Preparano insieme un piano per impedire a Emir di realizzare il suo intento, decidendo di affrontare legalmente la questione delle firme ottenute ingannevolmente. Mentre Kemal e Nian discutono il loro piano d'azione in macchina, sorseggiando il tè appena acquistato, Emir monitora attentamente dal suo computer i movimenti dell'auto di Nian. Dall'altro lato, Kemal, con la determinazione di chissà di non avere altro tempo da perdere, elabora un piano audace. «Prenderemo Denise e la porteremo via da qui», propone, la voce ferma e sicura. Nian, tuttavia, esprime le sue preoccupazioni. «Non voglio che nostra figlia diventi il fulcro di questa battaglia», ribatte, la paura evidente nel suo tono. Kemal, comprendendo le sue paure ma anche l'urgenza della situazione, cerca di tranquillizzarla. «Proteggeremo Denise», le assicura. «La nasconderemo in un luogo sicuro con i miei genitori fino a quando non avremo neutralizzato Emir». Con queste parole, Kemal non solo cerca di proteggere fisicamente Denise, ma anche di preservare l'integrità della loro piccola famiglia. Nian, dopo un momento di riflessione e nonostante le sue incertezze, decide di affidarsi completamente a Kemal. Accetta il piano, rafforzando il loro legame e la loro determinazione comune. Con i passaporti in mano e un Emir sempre più disperato e pericoloso, le prossime mosse di ciascun personaggio potrebbero cambiare il corso degli eventi in maniera irreversibile. Cosa succederà quando Emir scoprirà il loro piano? Riuscirà Kemal a tenere Denise al sicuro e a liberarsi della minaccia di Emir una volta per tutte? Restate sintonizzati per scoprire come questa intensa battaglia per la sicurezza e l'amore si svilupperà. Io sono Isabella e come sempre vi ringrazio per aver visto il video. Fatemi sapere nei commenti se volete vedere nuovi video scrivendo Nuovi Video. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere neanche un episodio di Endless Love.